Furti in batteria la notte scorsa in via Villa Tombari a Fano nella zona della trave con il ladro che ti cammina accanto nel cuore della notte. Tre case a schiera sono state visitate da ignoti nell'orario più classico per questo genere di visite attorno alle 4 della notte ed in una di queste la proprietaria si è trovata faccia a faccia con il ladro incappucciato e munito di torcia elettrica risvegliata quasi da un sesto senso proprio mentre gli stava mettendo le mani sulla borsetta messa su di una sedia vicino al letto. Il ladro ha mollato la presa ma lo spavento è stato tanto. Sì dice uno solo anche se penso che comunque ci sia il famoso palo o altro dietro ecco. Portato via qualcosa? Non hanno toccato niente hanno fatto solo danni fortunatamente però la paura è stata tanta insomma. E non è la prima volta che voi siete presi di mira qui? No io penso che sia la terza volta perlomeno per quanto mi riguarda è la terza volta anzi una proprio quanto il giorno del mio matrimonio che non c'erano sapevano e quindi hanno provato ad entrare. Ma prima di andare nella loro casa i malviventi avevano fatto visita in quella in testa alla schiera adiacente alla strada dove dopo il classico buco nell'infisso non si sono scoraggiati per l'inferriata in ferro presente ma con una tecnica da mission impossible hanno pescato letteralmente la borsa della proprietaria lasciata sul tavolo vicino alla finestra. Un po' di ricerca l'ho trovata qui sul terrazzo davanti casa sulle scale mi sono accorta che mancavano i soldi i documenti c'erano tutti ma mancavano soltanto i soldi che aveva lasciato all'interno. Dopo qualche minuto ancora mi sono accorta di questo piccolo foro alla finestra nell'infisso attraverso il quale avevano poi erano riusciti probabilmente a entrare con un bastone o qualcosa per prendere la borsa dove c'erano le chiavi all'interno della borsa c'erano le chiavi per fortuna non sono riusciti comunque ad entrare nonostante avessero le chiavi. Bottino magro quindi solo i pochi contanti nel portafoglio niente carte di credito niente bancomat che sono stati lasciati al loro posto ma la sensazione di insicurezza e vulnerabilità che lasciano queste esperienze è elevatissima. Sì ti lasciano un po' d'amarezza e comunque insomma ti fanno stare sempre con il cuore in golo insomma quindi non si sta mai tranquilli.